La venuta di Papa Boitila a Fano è una data ben presente nella mente di molti, ma per altri residenti è un periodo ricordato anche per un'altra evenienza, molto meno spirituale, più terrena e pratica. Stiamo parlando dello stato di alcune strade periferiche che ormai non ricevono più manutenzione e che, nella fattispecie, l'ultima asfaltatura degna di questo nome risale proprio alla venuta del Santo Padre a Fano. Da quanto mi ricordo l'ultima volta che fu asfaltata è stata nel 1984 e da quella volta credo che sia stato fatto un intervento circa 20 anni fa con quell'asfalto a freddo, adesso non sono un tecnico, però da quella volta questa è una strada abbandonata. Tra le altre cose questa è una strada che serve a oltre 30 famiglie della zona, quindi è abbastanza trafficata. Come vedete è piena di buche e naturalmente è anche un pericolo per coloro che transitano in bicicletta o in motocicletta. Strada Comunale Alto in località Metaurilia è una strada di intensi flussi di traffico. Oltre ad essere utilizzata da una trentina di famiglie sparse nella zona ci sono anche attività commerciali, camping, strutture ricettive e la stessa strada viene percorsa più volte al giorno dagli utenti per recarsi o verso Fano, passando per il quartiere della Tombaccia, o verso Marotta, passando per la Statale 16. Inoltre gli utenti della strada lamentano che un altro aspetto non secondario, oltre alla pericolosità per i mezzi a due ruote o pedoni, ovvero il fatto di sottoporre i mezzi meccanici anche ad un'usura più rapida rispetto alla norma, viste le continue sollecitazioni che subiscono ogni giorno, per non parlare poi di mamme che con il carrozzino vorrebbero poter uscire di casa in tutta sicurezza. Pertanto le richieste dei residenti sono facilmente intuibili. Chiedo come mi faccio anche portavoce degli abitanti della zona di asfaltare questa strada, quanto prima, anche perché Metauriglia non può essere archiviata come una zona di lontana periferia di Fano. Tra l'altro mancano anche i rattopi e renderebbero il tutto forse un po' più gestibile. Certo, ma effettivamente i rattopi non è che sono una soluzione definitiva, anche perché sappiamo che con forti piogge questi rattopi saltano, quindi durano poco.